Musica Cosa chiederebbe lei al futuro sindaco di Sanremo? Allora, prima di tutto i parcheggi che mancano a Sanremo. Io lo dico perché vedo dei clienti che arrivano qua e la prima lamentela è quella. La sporcizza, il degrado, perché non serve fare giardinetti davanti alla tecla, diciamo, la vecchia prigione, hanno fatto tutti questi giardinetti, che noi quest'estate avremo tutti i barboni, tutti i francesi stessi, io essendo francese lo so già con che spirito quando vengono qua, vanno, prendono la sardenara, si prendono, non so, una bottiglia di coca cola, bivaccheranno lì. Perciò non è quello che serve a noi. Hanno fatto anche il Corso Monbello, hanno allargato i marciapiedi per fare che cosa? Per fare un marciapiede bello largo, ma non c'è nulla. Non serve avere questi... ma più parcheggi e poi quello che le dico io, prendiamo esempio dalla Francia. Abbiamo una mentone che basta avvarcare, diciamo, la frontiera e vedere l'evolvere della città. Qui è un degrado totale. È un degrado totale. E poi ovviamente loro mantengono, dicono sempre le stesse promesse, ma non mantengono nulla. Lei è di Sanremo? Ha mai provato ad arrivare nel periodo della Pasqua, fare Corso Garibaldi e cercare di mettersi nel traffico attraversando Piazza Colombo per arrivare in Via Roma e rimanere imbottigliate? Io ho delle clienti che arrivano fino a, diciamo, ai Tre Ponti con la macchina, cercando di venire a fare shopping qua a Sanremo. No, niente. C'è un posto dove si allarga praticamente la strada e fanno il retromarcio e se ne arrivano. Perché è così. Lei vota a Sanremo? Io non voterò. Mi dispiace, ma non vado a votare. Quindi è inutile che le chieda, senza farmi il nome, se ha già un'idea di quale candidatura... Non voto per nessuno. Non voterò veramente per nessuno. È una resa, però. Non è una resa, perché è la politica stessa di Sanremo. Non voglio fare nomi, ma ci sono persone, ma già non solo che cercano di diventare sindaci, vogliono diventare anche andare, diciamo, al governo, che, diciamo, sono stati presi in fragante e non so con che coraggio si ricandidano. Sicuramente problemi per la viabilità, senz'altro. Code interminabili, smog infinito. Via Roma, poi, in particolar modo, è soggetto a questo? Assolutamente. Capisco che Via Roma sia l'unica strada di Sanremo, però, per accesso al traffico, è veramente invivibile. E più in generale, oltre alla viabilità, c'è qualcos'altro che può? Il discorso, gli argomenti sono veramente tanti e troppi. Visto che è una città a vocazione turistica, è senz'altro incrementare le manifestazioni dedicate a un certo tipo di turismo, con un occhio particolare alla cultura. Visto che si definisce città della musica, ci sono delle carenze enormi, secondo me, enormi. Dovendo sommare solo una cosa, una richiesta alla sicurezza. È impensabile continuare in questa maniera. Direi solo questo. E sarebbe già sufficiente. Cosa c'è che non va sul fronte della sicurezza? Beh, abusivismo, ma penso di essere persino il retorico, ormai è un luogo comune. Ma poi, cioè, tutti gli eventi di fuoco che ci sono stati, la malavita, gente ubriaca la sera, è un continuo. Voi avete un'attività particolare, i vostri clienti si sentono sicuri quando vengono, comprano, guardano? I nostri clienti sono già andati oltre, i nostri clienti non comprano più le cose preziose. Quindi, pensate un po' che bella notizia per una gioielleria. Hanno paura di indossarle, hanno paura di portarle a casa. Quindi, per quello, oltre all'asfalto, direi di controllare quello. Sarebbe già per l'economia generale un grosso passo avanti. Senza farci il nome, ma lei ad oggi ha già un'idea su quale candidato sindaco scegliere alle prossime elezioni? Sì, ho l'idea che c'è troppa confusione. Nelle liste c'è troppa confusione, quindi credo che andrò al mare. Ma seguirà la campagna elettorale magari per fare un tentativo di voto, poi alla fine, insomma? Sì, sicuramente, però devono capovolgere un attimino alcune cose, alcuni pensieri. Credo in questo momento di essere lontano da sapere cosa votare. Prima di tutto c'è la pulizia che fa schifo. sentito da tutti, eh? Poi, ci sarebbe un po' di ordine che non ci sta. Anzi, è un casino unico. E poi adesso non mi vengono in mente più, ma ce ne sono tante. La ordine si riferisce alla sicurezza o all'aspetto della strada, della via? L'aspetto della strada, che ognuno con i parcheggi fa quello che gli pare, con i tavolini in mezzo alla strada che manco si riesce a passare. Ci sono tante le cose. Dovevate avvisarmi? Mi preparavo la lista? Com'è l'ha vista Sanremo in questi anni andare? Sporca. Io ho sentito dei commenti che un signore mi ha riferito, mi ha riferito. Questo signore ha fatto finta di dormire su un treno, sono venuti qua a fare un giro e ha sentito i commenti che hanno fatto queste persone. Questo giuro è vero, eh? I turisti che andavano via col treno... I turisti che andavano via col treno, quindi erano sul treno. Mi ha detto, signora, mi sono vergognato di abitare a Sanremo, mi fa. Ha fatto finta di dormire, sto signore, perché dice che ne hanno detto di tutti i colori. Sanremo è uno schifo. Senza farci il nome diretto, ma lei oggi ha già un'idea di quale candidato scegliere tra 20 giorni? No, ci devo ancora pensare, perché fra tutti quelli che ci sono, non lo so, ci devo pensare bene. Seguirà quindi la campagna elettorale in questi ultimi giorni? Io sento tutti i telegiornali di questo mondo, li seguo tutti, però poi alla fine non si è mai risolto niente finora. Vediamo. Non lo so, ancora non ho deciso. Una città un po' più pulita, senz'altro. E poi guardare di fare qualcosa per il turismo, sport, che è molto interessante secondo me. E stavo a guardare la città, perché ultimamente alle 9 di sera c'è il coprifuoco. e poi niente, poi altro, le cose, le routine di tutto. Voi avete un articolo un po' particolare. C'è un certo tipo di clientela ancora a Sanremo per questi articoli un po' di russi? Sì, noi abbiamo da poco aperto questa attività, però c'è un buon lavoro, c'è un buon turismo, specialmente russo, francese. Certo, l'italiano ha un po' di difficoltà, però comunque anche l'italiano riesce a fare dei regalini, a fare delle cose. Qui siamo in un albergo, 30 anni minimo di attività. Cosa chiedereste voi al futuro sindaco di Sanremo? Che assolutamente non mettono la tasta di soggiorno e che tengano pulita la città soprattutto. Voi avete il polso, sentite i turisti, in particolare si lamentano di qualcosa o no? Sono soddisfatti? Avete un rapporto di questo tipo? Sapete cosa pensano i turisti? No, solitamente sono soddisfatti. Magari vorrebbero un po' più di sicurezza in generale. Da punto di vista delle manifestazioni, dello spettacolo? No, sono contenti. Infatti più o meno ogni weekend ce n'è qualcuna. Quindi? Quindi continuare a insistere, essere presenti a portare al di fuori della città le attrazioni che abbiamo e le manifestazioni che si fanno nella nostra città. Portare al di fuori la pubblicità del... Per conoscere di più quello che si fa in città. Esattamente. Su fronte della sicurezza? Su fronte della sicurezza si potrebbe fare di più, sembrano un po' poche una pattuglia carabinieri e polizia durante la notte, una dei vigili urbani sembrano un po' pochine. Senza farmi il nome diretto, voi oggi sapreste già chi votare tra 20 giorni come sindaco di Sanremo? No, personalmente non ancora. Sono un po' indeciso. Anch'io devo pensarci, non sono ancora tanto convinto su chi votare. Seguirete quindi questi ultimi sviluppi della campagna elettorale? Sì, vediamo cosa propongono e decideremo. Più attenzione a tutte le associazioni sportive che non godono di impianti per nulla, dare spazio a tutti di fare sport, specialmente al movimento calcio che è enorme e manca nei campi. Quindi un coordinamento da parte del Comune anche tra le varie associazioni. Esatto. E poi una prospettiva sul futuro in generale, un programma che possa dire Sanremo fra dieci anni cosa diventerà. Nessuno lo sa dire. Il problema è quello delle strutture sportive anche. Sì, esatto. Le strutture sportive che devono essere risanate quelle che ci sono e magari anche create di nuove. Un discorso che serve in particolar modo per i giovani questo? Serve per tutti i giovani. Per giovani e anche meno giovani perché sport si può fare a tutte le età e mancano gli spazi. Ci sono anche delle strutture che non sono sfruttate a dovere. Tipo il campo d'atletica che chi sfrutta l'atletica sono in pochi. Quindi potrebbero essere anche condivise gli spazi anche con altre discipline. Senza farci il nome direttamente, lei ha già un'idea oggi di chi votare tra 20 giorni? Sì, ho già l'idea ben precisa. Benissimo. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Da curare un po' di più anche le strade al di là di via Matteotti. Ci siamo anche noi, ci sono gli altri, le traverse, le parallele. Non è tutto via Matteotti. Quindi curarlo nell'arredo, nella pulizia, nel controllo delle forze dell'ordine. Cose normali. Niente di particolarmente fantasioso. Normale che basterebbe farsi un giro per la strada per capire quali sono le esigenze anche nostre. Ha 20 giorni dalle elezioni, senza farci il nome, ma lei ha già le idee chiare su chi votare? Assolutamente no. Seguirà la campagna elettorale? Quel minimo per farmi un'idea, ma proprio quel minimo. Diciamo prima di tutto una decisione magari un pochino più razionale, definitiva, sull'organizzazione del traffico e soprattutto sui parcheggi, che sono dal punto adorente di questa città. Se risolvesse, riuscisse a risolvere già questo problema, secondo me sarebbe sicuramente rieletto immediatamente. Ce ne sono poi molti altri, credo che sia una città culturalmente molto degradata, che ha bisogno di una crescita e anche di una sensibilità però da parte delle autorità politiche, che spesso, come posso dire, non sono abbastanza sorde da questo problema. Sono convinti che il turismo sia solo esclusivamente commercio e anche, secondo me, crescita e offerta culturale, oltre che, come posso dire, commercio, auspicio o disponibilità, diciamo, di articoli. Senza farci il nome, lei oggi avrebbe già un'idea chiara su chi votare tra 20 giorni come sindaco? No, devo essere sincero, anche perché lavoriamo a Sanremo, non siamo di Sanremo, quindi ho poca conoscenza dei candidati. Conosco qualche candidato consigliere comunale, i sindaci, diciamo, i candidati sindaci non li conosco. Guirà un po' la campagna elettorale in questi ultimi giorni o no? No, diciamo che per votare è meglio non seguire la campagna elettorale, perché se no normalmente si perde la voglia di andare a votare. Cerco di mantenere un adeguato distacco. Sicuramente marciapiedi, perché vedo che anche qua di fronte, soprattutto gli anziani, così che ha il passeggino, trova difficoltà sempre quando ci sono delle buche, oppure quando piove, sempre un po'... tante difficoltà ci sono. E sicuramente la sicurezza, perché soprattutto la sera, a noi, soprattutto io e una donna, oppure se ci sono la commessa, dobbiamo stare attenti, chiudiamo sempre bene le serrande prima di fare qualsiasi tipo di conteggio, perché comunque la sera vediamo che non c'è nessuno che ci possa anche solo dare una mano a un intervento. Oggi è successo che sono entrati degli ubriachi, sì è vero che ci può essere una vigilanza privata, è vero, noi ci siamo già infatti affidati a una vigilanza privata, che se ci fosse un problema possiamo chiamare loro. Però non è la stessa cosa se invece si vedesse passare, non lo so, un carabiniere, ogni tanto si vede questa figura, la famosa figura del polizzotto di quartiere, o del carabiniere di quartiere, però non è così tanto sentita da noi, cioè non si fanno differenze di provenienza delle persone, perché anche un italiano, qualsiasi, ti entra a noi, ad esempio c'è un ragazzo che viene sempre, è sempre perennemente ubriaco, lo puoi mandare via una, due volte, tre volte, però poi se ci fosse una persona che dice vabbè, la chiamo, la sicurezza è proprio importante. Allora, più parcheggi, più lavoro per i giovani o comunque più lavoro in generale, e che la città abbia di nuovo lo spolvero che aveva tanti anni fa, quando venivano tutti qua, piaceva, invece adesso Sanremo è troppo cara, a Sanremo non ci viene più nessuno, non è più come prima. Penso che se iniziasse già a fare queste tre cose, già saremmo a buon punto. Senza farci il nome, lei oggi saprebbe già chi votare tra 20 giorni? No, no, non mi sono ancora informata, mi devo ancora informare. Seguirà la campagna elettorale? Per quello che si può, qualcosa, sì, certo. Sicuramente dei parcheggi a disposizione dei clienti, quindi qualche area di sosta magari senza obbligo di pagamento, perché i commercianti in questo periodo sono un po' messi in difficoltà in riguardo a questo. Bisogna mandare incontro ai clienti, ai turisti in generale? Esatto, direi questo più che altro. Sul fronte particolare di Via Roma, altre indicazioni che possono essere utili? Cercare di abbellire il più possibile la via, dargli quel tocco di bellezza che ha già Via Matteotti e renderla altrettanto valida anche questa via. Il discorso del traffico in questa via in particolare? Eh, in effetti il traffico ce n'è molto, andrebbe, insomma, fatto circolare un po' diversamente, insomma, rendere la viabilità un po' più, insomma. Esatto, sì. Senza farci il nome, lei oggi sa già quale candidato votare tra 20 giorni? Sinceramente no, non ho ancora le idee chiare, no. Seguirà la campagna elettorale? Sì, 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 sicuramente, sì. Allora, chiederei più parcheggi, innanzitutto, meno a pagamento. Poi chiederei via Roma di essere repressionata di più perché è abbandonata a se stessa, perché stavano facendo tutto solo per via Matteotti, Piazza Bresca e altre vie pedonali, anche Corso Bombello mi sembra. Per via Roma è stata dimenticata completamente. Lo dissi già, sono già venute in comune in passato, ma non sono stata assolutamente considerata. Via Roma è diventata solo una via di transito, non ci si può parcheggiare, non ci si può fermare, vengono subito multati, per cui abbiamo perso veramente tantissimo lavoro. E se volentieri, ultimamente si sono accaduti tanti episodi di violenza, abbiamo visto quando ci sono appunto accoltellati nel ristorante a pochi passi di qua. Noi abbiamo avuto spesso violenza anche in questo bar, anche di sera, di sabato. Non è intervenuta la polizia, spesso, ma non perché io sono andata da alcuni poliziotti, ma è stato detto che comunque non hanno abbastanza risorse, abbastanza personale, perché possono intervenire, non avviano volanti disponibili, per cui siamo spesso impauriti noi qua come commercianti alla sera, anche perché c'è spesso brutta gente, per cui anche la sicurezza è un altro aspetto importante. Ma non solo penso per via Roma, penso anche per tutta la città, perché di casi di questo genere ne sono capitati molti ultimamente. Scipi in pieno giorno, invece non le casinò. Sta succedendo veramente di tutto in questa città, per cui questa non mi sembra che sia assolutamente... Voi non vi sentite sicuri nella vostra attività? Assolutamente no, per nulla. Sinceramente io credo che dovrebbero un attimino passare più anche del prossimo sindaco, passare più dei commercianti, capire di più le esigenze dei commercianti, e soprattutto perché questa città sta chiudendo, sta fallendo giorno dopo giorno, anche per l'alto costo proprio della gestione delle attività, partendo anche dagli affitti dei muri, che sono impossibili da sostenere, la qualità della gente che è sempre più scarsa e più veramente di basso livello anche da parte di fuori, per cui anche questo la qualità è pessima, ma in più noi abbiamo veramente dei corsi di gestione che sono pazzeschi proprio, per cui questa è una cosa che secondo me il Comune dovrebbe andare un attimo incontro ai commercianti, perché poi questa città essendo turistica dovrebbe, come si dice, essere supportata soprattutto da noi commercianti. Poi anche nei giorni festivi, un'altra cosa che voglio dire, se eravamo tutti chiusi, eravamo, anche questa cosa qua, il Comune dovrebbe un attimino seguirla. Senza farci il nome, lei oggi avrebbe già un'idea di chi votare tra 20 giorni? Sinceramente no.